L'ultimo furto all'aquila di un'anziana in ordine di tempo risale a qualche giorno fa. Un bottino di 5.000 euro fatto d'oro e dei ricordi di una vita portati via da una donna che si è finta infermiera e che ha convinto l'anziana signora a farla entrare in casa con la scusa di farle delle analisi legate al vaccino anti-covid. Invece no. Spalleggiata da due complici, i testimoni parlano di tre donne in una macchina bianca, l'anziana signora si è vista derubare. È solo l'ultimo furto, non si contano le truffe, i tentativi e i danni degli anziani, fragili e che spesso anche per solitudine tendono a fidarsi di chi invece si approfitta di loro. La polizia di stato e la questura dell'aquila è sempre impegnata per arginare e bloccare questo fenomeno sempre a fianco dei più deboli. Una donna ha avvicinato un'anziana signora proprio sotto la sua abitazione e spacciandosi per una conoscente, anche un'infermiera, l'ha convinta ad andare nell'abitazione di questa donna, di questa signora anziana e con una scusa si è fatta anche mostrare loro che poi ha sottratto fraudolentemente. Quindi le scuse sono sicuramente le più svariate per poter capire la fiducia di questi anziani. In questo caso la signora anziana di 76 anni di l'aquila ha perso chiaramente tutti i suoi averi, tutti i suoi ori che nascondeva nell'abitazione. Ci sono anche dei consigli per evitare questo fenomeno davvero odioso che purtroppo in tutte le città è un po' all'ordine del giorno. Partiamo da piccoli accorgimenti come per esempio cercare di non dare assolutamente fiducia se non si è sicuri della persona che sia davanti. Spesso il truffatore convince la persona di essere un conoscente del proprio figlio, della propria famiglia o un vicino di casa. L'anziano non si deve far convincere di questa cosa e soprattutto nel caso di dubbio chiamare subito il 113 perché se la persona appunto non è quello che dice di essere sicuramente si allontanerà. La persona anziana possibilmente nelle sue faccende che magari svolge quotidianamente di non essere mai sola, magari di farsi accompagnare oppure anche con un'altra persona della sua stessa età magari insieme riescono a farsi non solo compagnia ma anche evitare che malintenzionati li avvicinino. Quindi questi sono i consigli diciamo più utili e soprattutto non lasciarsi appunto convincere da queste persone che non si conoscono. Non facciamo entrare nessuno nella nostra abitazione se non siamo convinti di chi abbiamo davanti e non abbiamo soprattutto timore di allontanare di queste persone dicendo anche semplicemente sto chiamando la polizia perché non mi fido. Ecco non abbiate paura di dire non mi fido se non siete convinti.